a questo punto non ci resta che assegnare i materiali e andare a realizzare il lighting per i materiali molto semplicemente abbiamo già utilizzato una libreria che ci siamo salvati precedentemente quindi il fuoco di base che ci siamo salvati nelle precedenti lezioni mentre per le piccole scintille le scope t abbiamo utilizzato come la base del nostro materiale fuoco modificata leggermente con la self illumination e senza naturalmente le mappe di opacità con un po' di specular per i tronchetti per la parte invece delle geometrie quelle che sono renderizzabili poiché quelle da utilizzare come reference non sono per nulla renderizzabili anzi sono in visualizzazione box come vediamo e hanno una dal object properties la caratteristica di non essere renderizzabile abbiamo applicato un materiale di un blend material con all'interno il materiale che simula praticamente l'effetto di bruciato utilizzando le mappe di un gradient in questo caso solo illustrativo quindi non sono sceso nel dettaglio nell'utilizzare delle texture che è il compito magari di un texture artist miscelate ad un altro materiale che invece non ha self illumination e simula la parte non bruciata del tronchetti delle parti del legno non assolutamente toccate dal fuoco se andiamo a renderizzare otterremo tale effetto tale effetto vediamo infatti che ora siamo in una lezione molto più bassa però abbiamo l'effetto appunto di fuoco e di scintille e di parti bruciate proprio di un tronco bruciate e non interessante è il lighting in questa scena poiché abbiamo una luce posizionata al centro del nostro dei nostri tronchetti questa luce che possiamo anche vedere in way frame stiamo in prospettiva è proprio al centro volendo lo possiamo anche spostare leggermente verso l'esterno in una posizione che non dia fastidio con o che non sia interessata ai tre ai tre tronchetti una luce che è stata animata ogni 5 frame con un cambio di intensità nelle sue proprietà infatti notiamo che abbiamo un'intensità che varia nel tempo e una colorazione che però rimane sempre la stessa che è di colore giallino un inverse square e un far attenuation e poi abbiamo una sola luce con un valore molto alto un colore tendente al bianco la quale invece tende a creare soltanto un effetto di specular infatti in advanced effect troviamo soltanto lo specular andiamo in camera, renderizziamo, vedremo l'effetto ma è interessante ancora di più che se ci spostiamo ogni x frame vedremo un effetto di ombreggiatura di illuminazione che va a variare poi abbiamo un piano che va a simulare che va a tagliare anche le particles che non si vedono questo piano è solamente figurativo quindi per il momento a livello di esempio ha un materiale standard ci sono dei piccoli accorgimenti che possiamo effettuare sul particle system che riguardano la vita e la quantità naturalmente di particles da generare come use rate possiamo variare se vediamo che il numero di particles è eccessivamente alto possiamo variarlo, possiamo variare anche la vita se vediamo, se notiamo che l'effetto è troppo evidente l'effetto dell'attrazione verso il vento quindi se le particles tornano verso l'interno mentre possiamo variarle e avere comunque il solito effetto di onda verso l'interno quindi possiamo avere un effetto più vicino alla realtà sull'attrattore possiamo quindi sul nostro wind anche esso volendo potremo variare la sua posizione nel tempo se meglio ci aiuta a simulare altri effetti una volta trovato il giusto equilibrio tra le forme delle nostre particles siamo pronti a renderizzarle per poi dopo andare a elaborarle con strumenti come per esempio Composite se volessimo aggiungere l'effetto di fumo quindi l'effetto di fumo generato proprio dal nostro fuoco che è un altro elemento che possiamo sempre considerare la strada da utilizzare è la stessa oppure potremmo utilizzare quella che abbiamo utilizzato anche per il nostro cammino grazie a tutti